Amici del Bardo, oggi niente intro bislacca perché devo iniziare il TG con un doveroso aggiornamento sulla notizia che vi ho riportato ieri su Shed Gaspard, l'ex atleta WWE facente parte del Tech Team Crime Time. Purtroppo al momento di registrare questo video non ci sono novità positive. Le ricerche sono state sospese e a meno di clamorosi colpi di scena è lecito supporre che l'ex wrestler sia deceduto. MVP, amico personale di Shed, su Twitter in qualità di portavoce della famiglia dell'atleta ha ringraziato tutti coloro che stanno pregando affinché la situazione possa avere sviluppi positivi e ha rimarcato come i congiunti di Gaspard ad ora non intendano ovviamente concedere alcuna dichiarazione alla stampa. Oltre a lui altri wrestler hanno fatto altrettanto, ad esempio ho visto Kofi Kingston oppure l'ex WWE Ezekiel Jackson che in queste ore stanno dunque operando da scudo per allontanare il più possibile i riflettori e i media in un istante nel quale la speranza è debole ma è ancora ovviamente per chi vuole bene a Gaspar per i figli o per la compagna eccetera ecco la speranza in questo istante per quanto fragile non vuole spegnersi. Se ci saranno delle notizie, se capterò qualcosa al volo durante gli impegni giornalieri ve lo riferirò nella sezione community però ecco purtroppo l'outlook è decisamente negativo i siti americani più attenti riferiscono che trovare share vivo equivarrebbe ad una specie di miracolo. Staremo a vedere ovviamente tutti noi confidiamo che la vita gli voglia fare un regalo e che in un modo anche forse fortunoso si sia salvato però poi c'è anche da fare i conti con la concretezza della fisica e quindi le cose stanno così. Io purtroppo devo però andare avanti e quindi tornando alla nostra quotidianità vi devo informare che oggi Raw andrà in onda alle 21 su Sky Sport Arena. In programma avremo King Corbyn contro Drew McIntyre e poi la rivincita stavolta titolata tra le iconiche e le campionesse femminili Nikki Cross e Alexa Bliss. Già che ci sono vi ricordo che questa settimana vi proporrò ben due live molto intriganti, free for all aperte gratuitamente a tutti ambe due alle 21. La prima si svolgerà domani, quindi mercoledì e avrò in collegamento in contemporanea i lottatori tricolori Red Scorpion e D3. Sarà un bel evento, magari un po' complicato da moderare ma credo che possa uscire qualcosa di istruttivo per tutti, me compreso. La seconda avrà luogo invece giovedì, quindi dietro l'angolo anche questa e con me ci sarà Nino Baldan, un ragazzo di Venezia che prima del cambio di secolo si inventa una federazione italiana di wrestling radunando attorno a sé alcuni amici e da lì, da quei primi allenamenti sgarruppati con attrezzature di fortuna ecco che si pongono le basi per buona parte del movimento italico tuttora attivo. Per queste occasioni ho ovviamente bisogno del vostro aiuto e delle vostre domande dunque vi aspetto in live per essere il dodicesimo uomo e contribuire a far sciogliere la lingua ai miei ospiti quindi prendete nota, sulle date, sugli orari, non mancate. Rispondendo ai fan su Instagram, The Rock ha riferito di essersi ritirato nel 2004 perché il contratto che lo legava alla WWE era scaduto e desiderava mettersi alla prova ancora da giovane nel mondo di Hollywood abbandonando il wrestling quando era ancora sulla cresta dell'onda quindi non voglio ritirarmi quando il mio tempo è scaduto ed è chiaro a tutti ma me ne voglio andare quando sono al top. Rock ha anche sottolineato come allora stesse combattendo da sette anni un numero per lui straordinariamente fortunato, ricorrente nella sua vita che tra l'altro era tutto ciò di cui disponeva in termini economici quindi sette dollari quando abbandonò definitivamente le velleità di diventare un giocatore di football professionista per dedicarsi al wrestling e non a caso oggi la casa di produzione che ha fondato casa di produzione cinematografica si chiama Semen Bucks quindi sette verdoni i sette canonici dollari come la numero uno di Zio Paperone che aveva nel portafoglio quindi era molto spiantato prima di trovare la strada che l'ha condotto alla celebrità. Il campione del popolo ha anche aggiunto che in futuro, qualora ci siano le condizioni ideali potrebbe comunque tornare nel ring non chiudendo, come fa di solito, in maniera definitiva la porta dei sogni. Nikki Bella ha condiviso alcuni interessanti dietro le quinte tecnici sulla realizzazione della recente autobiografia firmata con la sorella Brie se vi va di saperne di più ne ho fatto un video a parte. Stando ai siti americani la WWE e la gente di Drew Gulak sarebbero comunque in trattativa starebbero cercando di riavvicinare le parti al fine di arrivare ad un rinnovo contrattuale. Ai più distratti ricordo che Gulak non ha trovato l'accordo desiderato con la federazione e al momento è fuori dalla stessa visto che il precedente contratto che lo legava a quest'ultima è scaduto. Una leggerezza non so quanto imperdonabile di qualche ufficio visto che comunque Gulak era inserito in una storyline importante al fianco di Daniel Bryan. Ora occupiamoci di Marta la vedova di Owen Hart la cui vicenda umana e sportiva sarà a breve profilata in un documentario della serie Dark Side of the Ring. Ora io vi segnalo vi suggerisco di visitare e di vedere questi documentari se capite l'inglese non sono istruttivi in maniera pesante se già conoscete le vicende trattate ma se siete fan giovani possono veramente aprirvi ad un mondo di informazioni. Ad ogni modo Marta ha permesso dopo 20 anni di produrre una maglietta commemorativa del marito. L'accordo è stato raggiunto però non con la WWE con la quale non ha mai avuto grossi rapporti anzi ha avuto rapporti parecchio tesi dopo la morte del marito ma è stato raggiunto con PWT un distributore molto noto nell'ambito del wrestling indipendente. Tutti i proventi di questa iniziativa finanzieranno la fondazione benefica nata proprio per ricordare Owen e tramandare la sua memoria mettendosi al servizio delle fasce di popolazione economicamente più deboli. Ad esempio di recente i volontari e il personale di questo gruppo hanno donato del cibo ai bisognosi e ai meno abbienti oppure sono stati protagonisti di alcune iniziative a sostegno, a favore dello zoo di Calgary che stava attraversando un periodo un po' turbolento. Ad ogni modo alcune recenti dichiarazioni di Martha stanno riaprendo delle vecchie ferite e hanno già fatto registrare le risposte di Bret Hart e di altri personaggi connessi a quando Owen morì tragicamente nel ring precipitando dal tetto di un'arena. Io però non vorrei entrare in questi argomenti molto delicati anche perché tutto sommato sono cose già trattate in maniera persistente sia sul web che in parecchia letteratura specifica. Dunque per ora mi riservo di parlare di tutto ciò in futuro qualora dovessero esserci dovessero emergere dei nuovi sviluppi rispetto a quanto è già di pubblico dominio. Con questa notizia direi che siamo arrivati alla fine del TG. Prima di andarmene vi ricordo ancora le prossime due dirette del canale ci tengo particolarmente. Domani Red Scorpion e D3 grande allenatore italiano Red Scorpion si sta facendo un nome in tutta Europa D3 sta in America si sta allenando costantemente è già stato in WWE ha combattuto un paio di match con Braun Strowman anche a Raw è stato chiamato e richiamato in diverse circostanze e insomma per lui speriamo bene potrebbe esserci un futuro rosio se non in WWE comunque a livello mondiale e poi il giorno successivo Nino Baldan diciamo il padre segreto del wrestling italiano almeno di quest'ultima generazione e poi un altro nodo al fazzoletto con Raw stasera alle 21 insieme ai miei colleghi il Godzilla Luca Franchini e il padrino Salvatore Torrisi potete ovviamente commentare qui sotto tutte le news che ho condiviso con voi seguendo il faro dell'educazione e in quanto al resto noi ci si becca quanto prima sempre e solo qui sul canale del Bardo alla prossima ciao ciao